Il Catania si allena in maniera compatta. Mancano 10 giorni al match contro la Fiorentina, ma Rolando Maran ha già l'imbarazzo della scelta su chi dovrà schierare contro i Viola. Il tecnico avrà infatti a disposizione anche Spogli e Dizzico, che si sono messi alle spalle tutti i loro problemi. Occhiai anche al Miron, l'ex di turno, che dopo il piccolo stop in corsa contro il Genoa si allena regolarmente. Situazione abbonamenti, cresce l'entusiasmo, le tessere hanno superato quota 8.500, ma la società spera di toccare 10.000 abbonati. Abbiamo aperto tutto un insieme di facilitazioni, di abbassamento dei prezzi a campagna abbonamenti. Io mi auguro che quel risultato che avevamo posto come obiettivo possa venire raggiunto. Con il campionato fermo per gli impegni della Nazionale, i rossazzurri domani alle 15 a Torre del Grifo affronteranno in amichevole il paterno, formazione impegnata nel campionato di Serie D. Strani in tre, Citrex e rossazzurri invece in Toscana. Amichevole anche per la Fiorentina dell'ex Vincenzo Montella, che venerdì alle 18 affronterà la SNASR, formazione di Dubai degli ex Catanesi Walter Zenga e Giuseppe Mascara. Zenga incrocerà a Sciama, oggi tra le file dei Viola e Gianni Vio, che attualmente collabora con Montella. Vio è il mago dei calci piazzati, che era con Zenga a Catania, che tanti ricorderanno per il caso dei pantaloncini abbassati in barriera da Gianvito Plasmati.